Buongiorno, sono Gobin Booyan dell'Entre del Turismo Indiano a Milano. Stiamo organizzando molte cose per il 2011, perché l'India non è solo storia, monumenti, cultura, spiritualità. Ha molto di più da offrire. Abbiamo molti nuovi pacchetti per il 2011. Ci preme di segnalare, in particolare, quelli per il benessere e il turismo medico, per i quali l'India è famosa nel mondo. Il turismo medico, ad esempio, in India sta diventando un fenomeno importante, che richiama visitatori da tutto il mondo. Infatti, i trattamenti medici in India sono piuttosto economici, circa il 30% in meno di quelli richiesti in Europa o nelle Americhe. Abbiamo medici e chirurghi di fama mondiale, ospedali di alto livello, infrastrutture e attrezzature di standard internazionale. Questo è il momento di approfittare di questa offerta dell'India, che per promuovere il proprio turismo medico sta introducendo uno speciale visto medico. Probabilmente l'unico del genere al mondo, valido per un anno per il paziente e, se necessario, anche per la persona che lo accompagna e lo assiste. Oltre a questo abbiamo in programma, per quest'anno, una serie di roadshow. Lavoriamo per portare in Italia una delegazione di operatori dall'India, che visiteranno diverse città italiane, probabilmente in contemporanee con BIT e TTG a febbraio-ottobre. Abbiamo moltissime novità, invitiamo tutti, agenti di viaggio, tour operator e consumatori, a trovare il tempo per venire in India.